Ci lavora e adesso il Consiglio Provinciale ha approvato il testo di Caterina Dominici sulla ladinità dei nonesi, ma a forza di discussioni e modifiche la portata del testo è stata ampiamente ridotta. Soddisfatta comunque la consigliera, l'opposizione l'accusa però di aver varato un testo utile soltanto alle elezioni d'autunno. Da anni Caterina Dominici e l'Associazione Culturale Erezia lavorano per il riconoscimento della ladinità di buona parte della popolazione nonesa. La consigliera ha condotto ricerche storiche, archeologiche e archivistiche e si è impegnata nel censimento che ha visto il 23% dei cittadini della Val di Nonne dichiararsi ladini. Passo successivo doveva essere l'approvazione in Consiglio Provinciale di una mozione che impegnasse la provincia ad attivarsi per la tutela dei ladini inonesi oltre che di quelli fassani. Ma alla fine la proposta, passata con 21 sì e 4 astenuti, si è decisamente ridimensionata impegnando la provincia più semplicemente a prendere atto del risultato del censimento con relativa affermazione dell'identità culturale e linguistica della gente nonesa e di spor maggiore e cave d'ago e a promuovere un progetto di studio per l'approfondimento delle caratteristiche identitarie dei nonesiladini. Comunque questo è un passo importante perché era da dieci anni già dell'epoca dell'altro censimento, più di dieci, 2001 e quindi ringrazio anche i colleghi. Alla soddisfazione della consigliera proponente hanno fatto da contraltare le critiche di diversi colleghi, specialmente dell'opposizione, nonché del segretario politico dell'associazione Fassa. L'elefante ha partorito un topolino, come ho detto anche in aula, cioè io capisco che siamo in l'aria calda, estiva, magari fa ragionare poco e fa ragionare soprattutto rispetto al 27 ottobre, però al di là di questo non c'è proprio altro. Si è tentato di creare il presupposto per la prossima legislatura di generare un assessorato ladino che naturalmente magari, e questa è la mia ipotesi, facesse capo proprio alla consigliera proponente. Il dispositivo che è stato approvato in questi giorni non dice esattamente niente, è stato svilitto nel suo contenuto e servirà probabilmente semplicemente in vista delle elezioni provinciali di ottobre, ma alla Val di Non non va a portare niente. Ci tengo a ricordare che la Val di Fassa si è dichiarata ladina nell'ultimo censimento con il 90 e passa per cento della popolazione, la Val di Non con un circa 30%. Prima di avanzare, secondo noi, diritti in materia, bisognerebbe essere un po' più numerosi. Critiche che la consigliera rispedisce al mittente. Io mi batto per la gente da sempre, dal giorno successivo a quello in cui sono stata eletta, da sempre. Questa è proprio una critica strumentale assolutamente infondata e offensiva.